salam alaikum salim yusufi abbiamo voluto fare questo saluto internazionale anche a te visto che nei saluti precedenti aveva avuto successo spero di averlo detto giusto il 6 del 94 è un dj dj saliii il problema è che la mail o l'ho fatta quando avevo 11 anni come molto probabile anche la mia come erano dj alessio no era alessiz ah minchiazzio e dj salim però mi è andata bene perché tanti amici mi ricordo che era tipo truczerello e poi lui usava anche nei curriculum capito però dj salim funziona perché salite le mani per dj salim senti che bomba sto pezzo ciao salim bella lì